Buongiorno a tutti, oggi andremo a misurare la densità di questo oggetto. Abbiamo bisogno di una bilancia elettronica, un baker e un baker con dell'acqua. Accendiamo la bilancia e aspettiamo che si accenda. Mettiamo il nostro oggetto, fermo la bilancia, 41 grammi. Ok, adesso prendiamo il nostro baker e versiamo dentro l'acqua fino a un livello, diciamo, 150 ml. Ok, abbiamo raggiunto il livello 150 ml e immaggiamo la nostra pallina. Come vedete, galleggia ed è arrivato a 190 cm3. Allora, adesso dobbiamo fare la divisione. Allora, il volume del nostro oggetto sarà 40 cm3. Ok, allora dobbiamo fare densità uguale massa diviso volume. Perciò dobbiamo fare 41 diviso 40. Quindi la densità del nostro oggetto è 1,02. Perciò è quasi alla densità dell'acqua, cioè 1. E per questo il nostro oggetto galleggia. Ciao e grazie per averci guardato e spero che sia stato chiaro.